Buonasera e ben ritrovati dal Palasport di Trissino, questa è l'ottava giornata del campionato di Serie 1 di Hockey su pista e in campo sono appena scese Hockey Trissino e Hockey Scandiano il contropiede dello Scandiano con Crespo che tira potente, non preciso intanto vediamo che la pallina non ne vuole sapere di scendere dai cartelloni pubblicitari si è che avvia il contropiede dello Scandiano con Crespo ha la possibilità di tirare Crespo e sblocca il risultato il gol dello Scandiano con Crespo che sblocca il risultato buon giro palla, veloce per liberare il gol del raddoppio dello Scandiano con il numero 11 Romeo Danna e anche per lui si parla di doppia cifra e vediamo ora il Trissino che va in contropiede con Nicoletti per Perez, opportunità per il Trissino con Perez che non trova l'angolo buono attenzione al contropiede dello Scandiano con Franchi 3 a 0, 3 a 0 Scandiano con Franchi attenzione al contropiede dello Scandiano con questa opportunità pericolosissima da parte di Danna ma risponde presente Nicoletti ci ha provato adesso invece Bertinato difesa attentissima, intensa da parte del Scandiano Danna in blocco, la palla dentro, la recupera però Bertinato che va in contropiede, c'è Facin, servito Facin ancora una volta la parata di Enrico ma è contropiede Scandiano attenzione a Franchi, in ripartenza Franchi si supera stavolta Nicoletti per parare questa conclusione Facin per Nicoletti che cade in area e c'è rigore il tiro, la parata, non ne vuole sapere di entrare oggi la palla non ne vuole sapere di entrare, parato anche il rigore recupera palla Trissino con Bertinato, opportunità per il capitano e ancora Enrico, ancora, ancora Enrico tutto pronto per ricominciare il secondo tempo Greco che non trova la pallina, era un'opportunità d'oro attenzione a Crespo, in ripartenza e la messa sotto il 7 4 a 0, 4 a 0 per lo Scandiano primo a fondo, 45 secondi c'era l'opportunità di Facin sul primo palo Nicoletti contro Enrico Nicoletti e il gol! e arriva il gol del Trissino ha segnato il numero 2 fiego Nicoletti! il blocco di Bertinato per Facin non ha una giocata semplice, Facin ci prova! questo tiro libero al sesto della ripresa parte Franchi contro Nicoletti alto! alto! nella marcatura sempre molto dura e corretta da parte di Nicoletti con Bertinato per Facin e la riapre Facin! il gol di Facin del 4 a 2 siamo ancora in partita il gol del Trissino recupera il palla Formaget uno contro uno Formaget la parata da parte di Enrico cosa aveva fatto Crespo? che lamenta un problema e il gol! del Trissino con Formaget 4 a 3 terzo gol del Trissino siamo ancora in partita momento chiave della partita parte Franchi con Nicoletti si allarga Franchi la tiene Nicoletti Enrico Facin non vuole sapere di mollare il Trissino Nicoletti dentro il pareggio! il pareggio! il pareggio di Bertinato! il pareggio di Bertinato! il gol del Capitano! non è finita! non è finita! ma è ancora a possesso Trissino con Ferran che è andato dietro in Diego Diego da fuori Bertinato la girata! la girata! la girata! la girata! il gol di Bertinato mamma mia! mamma mia cosa ho visto! gol del Capitano! il cuore! il Capitano! Carlo! Bertinato! i tre punti restano al Parasport di Trissino! 5 a 4 Trissino una partita pazzesca allucinante! che si può fare il che si può fare il